e la farò vedere al pubblico, io la leggerò e verrà preso nota quindi per andare a fare il verbale ufficiale di questa operazione. Si inizia dai premi più piccoli da 100 euro in buoni spesa per poi arrivare al finale primo premio. Vi ricordo che quest'anno i premi sono stati 27 in totale per cercare di aprire, di ampliare la possibilità di velocità. Detto ciò, se non ci sono ulteriori osservazioni, possiamo iniziare. Prima lettera estratta, lettera B di Bologna. Primo numero, numero 5. Se il pubblico da quella parte indietro vuole avanzare un po' per dare possibilità un po' a tutti, anche se noi stiamo già proiettando le stesse cose all'esterno del castello. il secondo numero, numero 2. numero 3. numero 3. numero 9. Quindi il primo biglietto che risulta vincente è serie B. numero 05239. premio vincitore 100 euro. Il biglietto è stato venduto da Ine, serie H. Allora, volevo precisare, della serie H sono stati assegnati soltanto 400 biglietti, quindi ora nell'estrazione è inutile estrarvele migliaia perché non sono state assegnate. Passiamo all'estrazione direttamente dei numeri che riguardano le centinaia. Qualora dovesse essere superiore al 4, bisognerà riprendere l'estrazione. numero 7. Numero 7. Dovremo? 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 Rifacciamo perché non risulterebbe essere venduto. numero 8. Numero estratto numero 1, quindi... numero fortunato. numero 3 numero 9 quindi abbiamo un biglietto 6 H00139 nel caso in cui un piccolo passaggio tecnico dovesse uscire tutti i numeri 0 si intende che il biglietto di 100 è il 10.000 l'ultimo biglietto di ogni serie questo per le interne grazie vista la presenza se qualcuno vuole avvicinarsi distribuirsi lungo il corridoio c'è spazio quindi prossima lettera serie B numero 0 biglietto precedente biglietto H0013 risulta essere stato venduto da il tempio dell'oro numero 8 numero 8 numero 9 numero 6 quindi il terzo biglietto estratto che vince 100 euro e serie B 0 0 8 9 risulta essere stato venduto 8 numero 6 l'ultimo 6 8 9 6 biglietto è B 0 0 8 9 6 quello è stato venduto da Mega Petrofi prossimo numero estratto 6 A 4 4 numero 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 3 8, numero 8 9, numero 6, risulta essere quindi biglietto 6, A, 0, 4, 3, 8, 6, da 100 euro, risulta essere stato venduto da macelleria, rosticceria, UG Prossima lettera estratta, facciamola vedere bene al pubblico, serie B numero 9 numero 8 numero 3 l'ultimo numero è il numero 3 quindi biglietto estratto da 100 euro e B 0, 9, 8, 3, 3 che risulta essere venduto da agenzia viaggi prima rete network proseguiamo con la prossima serie letter, facciamola vedere per pubblico, H saldiamo vediamo il numero numero 6 dobbiamo rifare le estrazioni in quanto sono biglietti non venduti numero 2 numero 2 Il numero estratto è il numero 9. Il numero 3 risulta essere venduto al Tempio del Doro. Prossima serie, serie F di Firenze. Numero estratto numero 2. Il numero estratto è il numero 6. Altro numero estratto. Numero 0. Numero estratto 8. Quindi il biglietto con il licitore di 100 euro è serie F02-608 venduto alla botteglia sotto casa. Prossima lettera estratta. Lettera, facciamo vedere il pubblico, lettera F. Primo numero 1. Numero 1. Numero estratto numero 7. Numero estratto numero 4. L'ultimo numero estratto è il numero 7. Biglietto estratto numero 7. Biglietto estratto l'ultimo in serie F01-747 venduto a Tio Casa Cosminici. Prossima lettera serie B. Prossima lettera serie B. numero 8. Numero estratto numero 7. Numero estratto numero 7. Numero 2. numero 2. Il numero estratto numero 7. Quindi il numero estratto serie B. 0, 8, 7, 2, 7 venduto a Puglia by accessorio. La prossima lettera. La prossima lettera che abbiamo estratto è la lettera, facciamo vedere, C. C di G. numero 8. Siamo estratto è qui. Numero 8. Numero 8. Numero 8. Numero 8. numero 8. Prossimo numero, numero 3. numero 9. Numero estratto numero 7. L'ultimo numero Numero estratto numero 1 Il biglietto quindi appena estratto è in serie C 0, 8, 3, 7, 1 Risulta essere stato venduto a folle idea Prossima lettera Lettera H Il numero estratto è numero 9 Dobbiamo rifare l'estrazione perché come vi ricordavo Sarebbero i biglietti non venduti per cui si rifà l'estrazione Numero 5 Un'altra estrazione risulterebbe sempre numero quindi venduto Serie Scusate Numero 0 Il numero che abbiamo estratto numero 5 Numero estratto numero 9 Ah sì scusate Risulta essere stato venduto a Tempio del loro Andiamo a estrarre il numero e la lettera del prossimo biglietto di 14 Sempre da 100 euro Serie H Numero 3 Sì Sì Striamo un altro numero Un numero che estriamo numero 2. Altro numero estratto, numero 6. Quindi il biglietto serie H00326 risulta essere venduto da Osteria da Giuseppe. Prossima lettera, lettera B. Numero estratto, numero 8. Un altro numero estratto è il numero 4. Altro numero estratto è il numero 7. Ultimo numero che andiamo ad estrarre. Il numero numero 1. Quindi il biglietto serie B08471 risulta essere venduto a Basile Petrovi. Prossima lettera, lettera B. Il numero che andiamo ad estrarre. Numero 0. numero 0. Numero estratto numero 4. numero 0. Passiamo un altro numero. Numero 8. numero 8. Numero 5. L'ultimo numero è il numero 5. numero 5. Quindi il biglietto estratto serie B00485 che risulta essere stato venduto a Menga Petrovi. serie A. Serie estratto del prossimo biglietto serie A. numero 6. Numero 6. numero 5. Numero estratto numero 5. numero 5. Abbiamo estratto un altro numero che è il numero numero 1. numero 5. L'ultimo numero è il numero 5. Quindi ancora un biglietto serie A. 0. 6. 5. 1. 5. dunque, che risulta essere venduto a Panificio Allegri. prossima lettera… Serie A. primo numero estratto numero 0 secondo numero il numero 8 altro numero 8 ultimo numero numero 1 il biglietto serie A 0 0 8 8 1 risulta essere stato venduto preferia girone dei golosi serie appena estratta serie B il numero che abbiamo estratto è il numero 4 altro numero altro numero estratto è il numero 4 prossimo numero numero 7 l'ultimo numero l'ultimo numero è il numero 1 quindi il biglietto risulta essere così come fosse serie B 0 4 4 7 1 che ci risulta essere venduto al supermercato dopo prossima lettera lettera H il numero il numero che abbiamo estratto numero 2 numero 6 numero 6 numero 6 numero 6 il divieto così il strato è serie H 0 0 2 6 3 che risulta essere stato nel du al tempio del loro serie F di Firenze il numero che andiamo ad estrarve numero 8 numero estratto numero 7 l'altro numero è il numero 6 numero 6 l'ultimo numero è il numero 1 quindi il biglietto che vi dice 100 euro in buona spesa è serie F 0 8 7 6 risulta essere venduto a maceteria alle grine prossimo biglietto serie H numero 7 numero 7 risulterebbe da rifare risulterebbe non numero estratto quindi è il numero 9 che è il numero 6 e rimettiamo l'operazione di estrazione perché risulterebbe sempre non il numero 6 e il numero 6 e il numero 6 e il numero 6 e il numero 6 quindi rimettiamo l'operazione ricordate che sono stati venduto in finale il numero 4 questo è il numero estratto e valido è il numero 1 il numero 7 il numero 6 il numero 7 il numero 8 che abbiamo estratto è il numero 3 E' l'ultimo numero estratto, il numero 3. Quindi il biglietto è 6H00133 che risulta essere venduto al Tempio dell'Oro. Spostiamo un po' i bambini e questo era l'ultimo biglietto da 100€ dei vendi estratti che hanno vinto e ora si eseguirà l'estrazione dei biglietti vincenti che vinceranno appunto 500€ in buoni spesa, in buoni da 50€ cada uno. Spendibili in tutte le attività aderenti, tutti questi buoni premi possono essere spesi in tutte le attività che hanno partecipato. Serie, per il primo biglietto dei 500€, Serie G, G di Genova. Il numero estratto numero 9. L'altro numero è il numero 6. Numero estratto, facciamo vedere bene al pubblico, numero 1. Ultimo numero del biglietto, risulta essere il numero 1. Quindi il primo biglietto dei 500€ in buoni spesa è il Serie G09611. Il numero 1 risulta essere stato venduto da Coggei e Serena. La prossima lettera che abbiamo estratto, ci stanno vedendo bene, Serie H, fortunatissima questa serie. Il primo numero utile è il numero 0. Il numero, il strato numero 3. Il prossimo numero, il numero, il numero, il liste e il liste, il numero 8. Quindi il biglietto estratto, Serie H00038, risulta essere venduto al Tempio del Doro. Facciamo vedere il numero, il numero, il numero 8. Facciamo vedere il numero di serie appena estratto, Serie A. Serie A. A, come è inizio? Il numero estratto è numero 6. Il prossimo numero, il numero numero 6. Il numero numero 1. Altro numero numero. Altro numero numero 0. Altro numero estratto, numero 3. Il secondo biglietto del 500 euro, o meglio, il terzo del 500 euro, risulta essere serie A06103. Risulta essere venduto. Nacelleria aziendale, contratta pubblica. La prossima lettera, facciamo dire al pubblico. Serie H. La prossima lettera, facciamo dire al pubblico. Vediamo il numero utile, quale sarebbe questo biglietto. Numero 0. L'altro numero vario, questo biglietto è numero 2. L'ultimo numero estratto è numero 5. Quindi, il premio di 500 euro è serie H00025, che ci risulta essere venduto. Altro euro. Prima 50 euro. Non vediamo ancora. No un taglio 9. Prima. Non vediamo più il digitale. La prossima estazione che andremo a fare è il biglietto da 1000 euro. Quindi, il terzo in ordine di telespetterela, l'importanza. La serie E, la lettera D, D di Domodossola. Il numero estratto del pubblico, il numero 6. Altro numero estratto, il numero 5. Prossimo estratto. Numero 8. L'ultimo numero. Numero 4. Quindi il biglietto che dice 1000 euro in buona spesa è serie D, un momento, serie D, 0, 6, 5, 8, 4. Ci risulta essere venduto a Mopilcon. Ora passiamo al premio di seconda categoria, con l'estrazione della lettera. La lettera estratta è serie B, 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 B. Il numero estratto. Il numero estratto è il numero 3. Un altro numero estratto. Numero 2. Ancora un altro numero, che è il numero 4. Ultimo numero estratto. Numero 3. Il biglietto risulta così essere composto. Serie B di Bologna, 0, 3, 2, 4, 3. Risulta essere venduto a supermercato DOC. Ora arriviamo all'estrazione dell'ultimo o primo biglietto in ordine di importanza da 3000 euro in buona spesa. Lettera estratta, lettera B, B di Bologna. Il primo numero. Il numero 9. Il numero 2. Il numero 2. Il numero 3. altro numero estratto numero zero numero zero e l'ultimo numero che andiamo a leggere risulta il numero quattro quindi signori e signori il primo premio del compiello 2013 risulta essere la serie B09204 che ci risulta essere stato venduto all'Ottica Forleo qui in cui c'è il messaggio quindi auguri ai vincitori di questi biglietti vi grazie per essere stati con noi vi auguro